Signori benvenuti in una nuova puntata di Resident Evil Remastered Raga nella scorsa puntata siamo riusciti a mettere le mani nelle scorse puntate, cioè nelle scorse due puntate Siamo riusciti a mettere le mani sulla chiave della spada, usarla dappertutto E abbiamo trovato anche quest'altra nuova zona di salvataggio Che non è male, c'è anche un baule quindi non è per niente male Allora l'unica zona che io non mi sentivo diciamo molto tranquillo Ah dobbiamo andare a recuperare il fucile perché abbiamo messo le mani su il fucile fuori uso Quindi penso, presumo che possiamo poggiare quello e prendere l'altro, quello che comunque funziona C'è molto scontata come cosa raga Oltre a questo penso, presumo, suppongo Ci manchi quella zona dove abbiamo trovato, se non sbaglio, tre erbe rosse, due erbe verdi E un sacco di cose chimiche, di sostanze chimiche Che non mi ricordo assolutamente dove si trovava Se sbaglio è nella parte ovest o est che sia della villa Quindi in teoria dovrebbe essere a destra E dovrebbe essere Non mi ricordo, non so se al primo piano, forse era al primo piano Ah è qui, è qui, è qui, è dove c'è il giardino praticamente Quella zona tutta tratteggiata Vabbè Tanto dobbiamo andare lì perché dobbiamo prendere il fucile Più che altro Ecco, due coglioni, cazzo Mi sono dimenticato di poggiare Allora, in teoria dovrei scendere Però in pratica andiamo per gradi Andiamo prima a poggiare il nastro inchiostratore Che comunque non ci serve a niente Poi dopo ovviamente torniamo dove vi ho detto a prendere quelle cose là Taglio raga, o comunque accelero Ah no raga, dovevo passare proprio da qua Perché Ok raga Allora, prepariamoci Speriamo bene Speriamo che non Più che altro Non Non avere problemi con i cani O al massimo un paio di colpi Li buttiamo giù Allora, questo innanzitutto Oh merda È una zona che Dobbiamo Allora Ignoriamo la Ho preso l'erba rossa Perché comunque ho già le erbe verdi nel baule Ma più che altro Ok dobbiamo andare a recuperare il fusil 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 Che sì sì Sta andando bene Dovrebbe essere di qua Sì Sì Allora Neanche nella versione originale ero riuscito a prendere il fucile Come vi dissi tempo fa Quindi questa diciamo che è una bella vittoria Solo che io adesso non posso prendere Merda Sono deficiente Ho preso l'erba rossa Porca miseria Mi ha riempito il baule Vabbè vado e torno Ok raga C'era un pugnale nascosto dietro questa cosa qua Allora non so se ho preso Non ho preso tutto Forse mi manca Una serie di piatti ornamentali Forse anche qui No Ando dall'altra parte Un caricatore Beh Dai Ci può stare Ci può stare Mi ho preso tutto anche qua Perfetto Oh Di lusso Almeno Ci stiamo togliendo un po' di zone Dove Dove dobbiamo prendere degli oggetti ancora In volta che vedo Chris così di fronte Mi viene Mi spavento perché Non per il personaggio in sé Ma perché penso che stia per partire Una Un video Magari di quelli pericolosi E cose del genere Ok Ok Quindi possiamo appoggiare per l'appunto il finto fucile E andare a prendere E andare a prendere quello buono In modo da non far scattare comunque la trappola Perfetto No Voglio usare questo Perfetto Quindi in teoria adesso non dovrebbe più Scattare la trappola Infatti è così Perfetto Perfetto Ah vorrei capire una cosa Ma quella zona mi rimane Rossa Oppure No Diventa verde Ok Quanti spazi abbiamo Abbiamo Ok Abbastanza spazi per prendere anche quelle erbe Il problema Sono i cani I cani si comportano in modo strano Allora Noi siamo su attenzione Male che vada Possiamo utilizzare un'erba Male che vada Ok Ok Ricordarci che dobbiamo prendere Ok Perfetto Poi Apre il menu veloce Perfetto Ah ma la verde Non posso prenderla Però E prendiamo la rossa Per ora Oh E levati Ecco Ecco Non volevo Fare attenzione Però E basta Ok No Levati Ok Va Avendo Veramente tante erbe Alla fine Diciamo che Ci siamo Riusciti a guadagnare Ne abbiamo usata una Non Non usandone Ci avremmo guadagnato il massimo Ok Quindi E in definitiva ci manca La zona della trappola Sì Sto pensando Perché ci manca Sì Quella zona Che poi Tra l'altro Dovrebbe essere Collegata Allora Fammi ragionare No Dovrebbe essere Collegata Dovrebbe essere Quella lì Noi ci arriviamo Ah Ok Ok Ho capito Dovrebbe arrivare Ho capito Dovrebbe arrivare Perché Continuo a darmela Rossa Sia Quella Stanza Quella stanza Delle erbe verdi Very strange Ci siamo Dimenticati qualcosa Ci siamo Dimenticati qualcosa Mi sembra strano Allora Innanzitutto Possiamo appoggiare Tranquillamente La Io direi Anche il fucile Non si sa Allora Possiamo fare Un paio di cose Appoggiare Questo No Prendere Il nastro Inchiostratore Appoggiare Questo Perché tanto Adesso Non ci serve Non me lo Sistemi In automatico Vabbè Sti cazzo Possiamo salvare E provare Andare Dove c'è La trappola Dove Secondo me C'è La trappola Correggiamoci Non è detto Non è detto Che ci sia Una trappola Vera e propria Ok Il nastro Inchiostratore Lo possiamo appoggiare Ok Via 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 Quindi Allora La Lattanica Di Cherosene Però Non so Come utilizzarla Quello è il problema Allora Siamo Su Attenzione Quindi Io direi Almeno Almeno Di andare A curarci Le ferite Con le erbe verdi Quelle là Gratuite Così almeno Non utilizziamo Le nostre Poi Da lì Fare un paio Di cose Che mi sono Lasciato Indietro Solo che Com'è che Arrivavo lì Io Ma adesso No Eh le nuove zone Non me le ricordo Quasi mai Allora innanzitutto Al primo piano Ah Intanto Stiamo andando Là Raga Sì Dovrebbe Essere Questa No Vabbè Potevo passare Da lì Vabbè È uguale Più che altro Lì Ci siamo Lasciati Delle cose Da fare Mi sembra Strano Ma E cosa Che ho lasciato Scusa Ho preso Tutto Qua c'è Qualcosa Che ho lasciato Non saprei Non saprei Cosa Cioè Non penso Si riferisca All'erba Comunque A Questa Non saprei Non saprei Proprio Ok Quindi Qui Siamo Giusti Devo Andare Però Sì Così Poi Dritto Sì Giusto Poi Da Qua Andare Qui Giusto 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 Ok E qui C'era Quello Che dicevo Che era La trappola Vediamo Se è una Trappola Salvato Salvato La morte Non è che L'inizio Ok Ok Grazie a tutti. 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 Ah, là c'è la biblioteca, ma nella biblioteca, allora, altra cosa, ecco appunto, là quella biblioteca lì c'è qualcosa che ci siamo lasciati dietro, però non saprei che cosa, raga, perché... Ho preso tutto quanto, se non mi ricordo male. Qua è chiuso dall'altro lato, qua è chiuso dall'altro lato, qua invece no. Qua vabbè. Lo hai bisogno è chiuso dall'altro lato lato, qua è chiuso dall'altro lato... forse c'è qualche munizione ed era qui, qui cosa c'era scusa? Il diario è aperto, le pagine sono bianche, giove, ma vaffan, vabbè, pensavo c'è, pensavo ci fosse chissà che cosa invece, una merda, quello che sapevamo già, ovvero come utilizzare le piante, ma vaffan, vabbè, perreta di tempo, tutti i visi sono stati cancellati, che famiglia allegra, allora, prendiamo l'emblema e torniamo lì, e vediamo se riusciamo a risolvere questa cosa, perché secondo me, cioè non abbiamo nient'altro, ragazzi, cioè abbiamo solo questo, altro non abbiamo, perché sono tutte, poi c'è questa sostanza chimica che io so già dove usare, però il problema è che ancora non abbiamo sbloccato quella stanza, quindi probabilmente è una stanza protetta dall'accoso, dall'emblema dell'armatura, qua abbiamo essenzialmente esplorato tutto, ma io sto guardando quella stanza, mi sembra un po' particolare, vabbè, per ora non mi interessa, però c'è anche l'orologio, c'è qualcosa nell'orologio che è... però non mi ricordo, raga, non so neanche se avevo risolto l'enigma dell'orologio, vabbè, allora, proviamo a fare questa cosa dell'emblema, ma, raga, io c'ho il dubbio, il forte dubbio che non serva a niente, perché? Allora, qua dovrebbe esserci l'orologio, e anche qua mi manca un oggetto, cioè mi manca un coso, quando i due si saranno trafiti si aprirà la strada del tuo destino, un quadro di due cavalieri che combatta la spada a corte si è avvisato nel troppo di un cavaliere, mentre la spada lunga ha trafitto la testa dell'altro, allora, guardando come sono disposti, dovrebbero fare le 10-10, perché sono fatti così, no? quindi la spada... no, non le 10-10, le 2-10, perché la spada corta dovrebbe rappresentare le ore... sì, ma... ho capito! mamma mia... allora... no... merda... i due si saranno trafitti... i due... si saranno trafitti... e... e... Cioè allora Occhie Croce mi viene da pensare Che Cioè non penso di dover cambiare L'orologio della Playstation Cioè non credo Questi sono Questi sono trucchi che Si esistevano prima ma non penso Perché vedete allora Ma non è che posso spostare l'orologio In qualche modo No Cioè qua ci arrivo ma No non saprei Non saprei proprio raga Quindi ci manca L'unica cosa che ci manca È la Provare Lì nella Nella coso Cioè In quella Trappola lì A provare a mettere L'emblema È l'unica cosa Che mi rimane da fare Raga È l'unica cosa Che mi viene in mente Ok E ma E ma Quindi Quindi c'è solo C'è solo questo C'è solo questo Cosa Questo non lo posso usare Niente raga Io direi di salutarci qua Perché ho registrato Tanto Anche oggi Non saprei come risolvere Questa cosa Perché il fucile Bene o male Ti dava Cioè ti dava Il Cosa No Cioè L'emblema Consumato i latti Non mi ricordo Cioè Non lo so proprio Non so proprio Allora Ah Sì Vabbè Lì È dove C'è Il Cimito Ma Stavo cercando di capire Cazzo di cosa era Quella Allora Lì c'è l'orologio Sicuramente Da risolvere Perché me la indica In rosso Ah Quella di sotto Quella di sotto La porta di sotto Della Della zona centrale Non capivo Perché me la indicasse Di rosso Mentre quelle grigie Ancora non sappiamo Se sono aperte O chiuse Ok Qual Allora Al secondo piano Raga C'è quella La stanza Con le erbe Verdi Le erbe verdi Che Che possiamo utilizzare Sempre Tra virgolette E Cioè Sembra che ci sia Dell'altro Ma non so cosa Cioè Non ho visto niente Non saprei Ragazzotti Non saprei Ragazzi Io tanto Ho salvato Poco fa Quindi non ha senso Che salvi un'altra volta Prima di tutto Ragazzi Io sono Metti Ci vediamo Alla prossima